In nome del Padre e del Vizio dello Spirito Santo, con grande gioia ci raduniamo, itineranti nei nostri quartieri, insieme con la Madonna che ci guida. La Madonna è quella madre che ci aiuta a conoscere i nostri bisogni e a rivolgere i nostri bisogni al Figlio Gesù. Grazie. 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 Grazie perché siamo nella fase due di questa emergenza, certamente la Madonna ha ascoltato la nostra preghiera. Vogliamo ancora pregare perché lei come madre ci provisca, ci provisca e soprattutto ci dia la prova della tua presenza con il coraggio della fede. Il Rosario nei quartieri è un bellissimo momento di comunione, non è soltanto una preghiera devozionale, ma riscopriamo la bellezza di essere una comunità ed è bello che nei quartieri possa la preghiera diventare occasione di incontro e soprattutto un momento di riflessione della nostra vita spirituale. Possa la Madonna aiutarci in questo nostro cammino. Ora continuate con la preghiera del Rosario e la preghiera sia sempre la nostra vita. Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai. Santa Maria del Cammino sempre sarà con me. Vieni io madre in mezzo a noi, vieni Maria qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. evangeremo insieme a te verso la libertà. Vieni io mare in mezzo a noi whats. Cammineremo insieme a domni. Acqua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Oggi mercoledì contempliamo i misteri gloriosi. Nel primo mistero glorioso contempliamo la resurrezione di Gesù. Presto andate a dire ai suoi discepoli che eri suscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Anche oggi il nostro pane quotidiano, che rimette a noi i nostri denti, come noi ripresciamo i nostri territori. E non ci vede le tentazioni, ma di vero ci dà male anni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e allora la sua morte è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e allora la sua morte è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e allora la sua morte è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e allora la sua morte è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e allora la sua morte è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta per le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso la loro vita è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta per le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso la loro vita è con te. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Adesso la loro nostra morte è amica Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori Adesso la loro nostra morte è amica Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta sulle donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. San Maria, amore di Dio, viva per noi peccatori. Adesso il Signore voto con te. Amen. Gloria al Padre, al Viglio e allo Spirito Santo. Com'era il Viglio del Sente, nei secoli, nei secoli. Amen. Gesù mio, perdona i nostri corpi, perché serve sulla scuola della sua vita. Forse in cielo tutte le armi e si calende per quelle bisognose della tua misericordia. Maria Santissima dell'Elemosina, prego per noi. Nel secondo mistero glorioso, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Padre nostro, che sei nei Cieli, sei partecipato al tuo nome. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E oggi indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con detto, se la benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con detto, se la benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con detto, se la benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con detto, se la benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con detto, se la benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetta e frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetta e frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetta e frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetta e frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetta e frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, figlio dello Spirito Santo, come l'era di Dio, per sempre il tuo seno, Gesù, Gesù. La mia anima canta la grandezza del Signore, il mio spirito esulta del mio salvatore. Nella mia povertà, l'infinito mi ha guardata, in eterno ogni creatura, mi chiamerà Beata. La mia gioia è nel Signore, che ha creduto grandi cose in me, la mia lode al Dio fedele, del suo imporso, il suo popolo, e non ha dimenticato le sue promesse d'amore. La mia anima canta la grandezza del Signore, il mio spirito esulta del mio salvatore. Nella mia povertà, l'infinito mi ha guardata, in eterno ogni creatura, mi chiamerà Beata. Nel tezzo mistero glorioso si contempla il dono dello Spirito Santo a Maria e agli Apostoli, riuniti nel Cenacolo. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di estremersi. Padre nostro, che sei nei geli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua valentà, come il cielo così interno. Lasci oggi il nostro pane e il terra, e le mette a noi i nostri debiti, come noi le mette a noi i nostri debitori, e non ci dole per la sua nome, e non ci dole per la sua nome, e non ci dole per la sua nome. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria Santa Maria Aveso le dole della nostra morte Ave Maria Aveso le dole della nostra morte Bene che mette il frutto del tuo seno, Gesù Aveso le dole della nostra morte Ave Maria aveso le dole della nostra你在 Bene che mette il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria Viene di Grazia Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne Benedetto il frutto del Tuo Seno Gesù Episode 2 Maria, Madre di Misericordia, prega da noi. Nel quarto mistero glorioso contempliamo l'assunzione di Maria al cielo Se dunque siete risorti con Cristo cercate le cose di lassù Dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra Allora, non so se l'esercizio, 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 non so se l'esercizio Non so se l'esercizio, 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 non so se Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei la benedetta fra le donne. E benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei la benedetta fra le donne. E benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei la benedetta fra le donne. E benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei la benedetta fra le donne. E benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei la benedetta fra le donne. E benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei la benedetta fra le donne. E benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei la benedetta fra le donne. E benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amén. Ave Maria, piena di grazia e signore, con te, possedere la parola d'or, e benedetti e plurro del coseno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amore. Ave Maria, figlia e lo Spirito Santo, con me del mitrici e nel senso 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 e almeno. Ave Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Maria, prega per noi peccatori, adesso è nella nostra morte. Ave Maria, ora prego per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Donna di frontiera e madre dell'addore, ora prego per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria Ave Ave Maria Ave Nel quinto mistero glorioso si contendola l'incoronazione di Maria regina del cielo e della terra nella gloria del paradiso. Sappiamo che quando Egli ci sarà manifestato noi saremo simili a Lui perché lo vedremo così come Egli è. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo così in terra. Facci oggi il nostro padre quotidiano, e rimettere noi i nostri piedi, come noi rimettiamo i nostri territori, e non ci vuole in tentazione, ma lì che c'è il normale. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno è Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno è Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno è Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno è Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno è Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno è Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori. Adesso la gloria è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori. Adesso la gloria è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori. Adesso la gloria è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori. Adesso la gloria è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria. 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 Padre, qualche sostenuti dalla misericordia della Verge di Maria, perseveriamo nell'unità della fede e nell'integrità della vita. Per Cristo nostro Signore, sotto la tua protezione ce la chiamo, Santa Madre di Dio, non disperzare dei sudditi che noi diciamo nella tua vita, la liberazione di pericolo, ovecce, e gloria di pericolo, Santa Maria dell'Elemosina, benediciamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Grazie a Dio. Madre d'amore, Madre del Signore, che guardia. Madre d'amore. Madre d'amore. Madre d'amore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.